Lazio 1-Lecce 1, terminato il primo tempo sul parsare appunto di 1-1 Detto questo, che partita abbiamo visto? Allora, secondo me è stata una partita priva di occasione di gol, qualcosa c'è stato Però secondo me il risultato è giusto Qualche rimpianto per il Lecce sicuramente c'è Ma d'altronde il Lecce oggi secondo me sta facendo una buonissima prestazione Non merita assolutissimamente di perdere Per come sta giocando i primi 45 minuti Fase difensiva perfetta, a parte il gol di Immobile Perché il gol di Immobile veramente è un grandissimo gol da attaccante vero Bascherotto un po' in ritardo, fa il corrino un po' nulla Però ovviamente fase difensiva ottima In mezzo al campo secondo me è molto meglio il Lecce che la Lazio Marcos Antonio non mi sta facendo per niente Anche Milinkovic, lo vedo veramente tanti in calo Cioè se me Milinkovic questa stagione non ha fatto una stagione come la scorsa per esempio O come banalmente nelle prime partite del 2022-2023 della Serie A Luis Alberto comunque è uno dei pochi che ci sta provando con le sue magie Con le sue magie Per il resto a me la Lazio non è piaciuta Dopo il 1-0 ha preso un po' di campo Sì Milinkovic ha avuto un'occasione Falcone ha fatto una gran parata di piede Però veniva la Lazio molto in calo Veniva la Lazio molto in calo Passando a Lecce Allora Io voglio sottolineare un giocatore Del Lecce Che a me è colpito veramente Veramente tanto Fin dalla prima Fin dalla prima partita che ho osservato Contro l'Inter Morte Jurman Ragazzi A fa delle verticalizzazioni Che noi con Lucatelli Ci sogniamo Non tirare in porta Va bene Non fa gol Va bene Ma ragazzi Sia in fase di possesso Che in fase di non possesso È un giocatore Veramente Veramente Forte È un giocatore veramente Veramente forte Se fosse per me Io lo prenderei Alla Juve Il punto è che abbiamo Tanti giovani italiani Quindi piuttosto Sfruttiamo quelli Ma nel primo tempo Negli ultimi 10 secondi Il gol d'asce da Juhlman Che verticalizza Per un giocatore del Lecce Che la mette in mezzo Per Rodin Che fa un grandissimo gol E porta il Lecce A pareggiare Però Juhlman Veramente anche contro la Juve Mi ricordo Una palla dentro per Cizè Decisiva La chiusura di Bonucci Giocatore monumentale Juhlman Giocatore monumentale Che fino a un anno fa Non ho mai sentito nominare Ma Mi sta sorprendendo In maniera incredibile Cioè Mi ha in realtà sorpreso Dalla prima partita Che ha fatto contro l'Inter Però Vedendolo Ho questa conferma Ecco Ripeto Brutta Lazio Brutta Lazio Fino ad ora Una Buona partita del Lecce Che sbaglia anche un rigore A Inizio partita Inizio partita Più che inizio partita A metà della partita Con Un'ingenuità Colossale A parte di Usai Che stende Blen Calcio rigore Dettissimo Lo batte Strefezza Fuori Allora Avevo visto un po' di paura Nella faccia di strefezza Non ci vedremo Che ha trascinato Che ha trascinato Il Lecce Quest'anno Però L'ho visto un po' Più che altro Cagarsi sotto Sinceramente Infatti Buon rigore L'ha tirato fuori Però Vedel Lo stava comunque Intuendo L'aveva intuito L'aveva intuito E non era un bel rigore Perché la palla è andata fuori Manco dicessi Manco era sul palo Manco è Manco è andato sul palo Manco l'ha baciato il palo Quindi rigore brutto E non è il classico Rigore della strefezza No L'ha messa stavolta Angolata Anche Perché Provedere è stato Veramente Veramente bravo E' vero che il possesso Balla fuori Di Bianco Celeste Ma E' altrettanto vero Che il Lecce Ha concesso Poco e nulla Clamoroso Lecce 2 Lazio 1 Minuto numero 86 La Lazio sta Provando gli ultimi assalti Del match Cross in mezzo Baschirotto Libera Andiamo ad analizzare un po' Il secondo tempo Allora Secondo me Lecce Come ha fatto negli ultimi Minuti del primo tempo Dopo La scossa Dello subito di immobile E' entrato nel secondo tempo Con un fuoco Pazzesco Ha fatto veramente Secondo me Nei primi 15 Minuti Ha quasi dominato Intanto qui Bella parata Di fargo Su Pedro Però I primi 10 15 minuti Del secondo tempo C'era solo Lecce in campo Che raddoppia Con Uden Su una Gran palla Di stifrezza Da proprio Il giocatore Che oggi Ha segnato Due gol Poi sostituito Su una palla Persa Di Luis Alberto Che si lamentava Una pressione Di un giocatore Lecce Però Deve anche lui Svegliarsi In quella situazione Lì Dopo il gol Del 2-1 C'è solo Lazio in campo A livello territoriale Lecce non esce più Non crea più niente La Lazio Con secondo me Pellegrini Che è subentrato Un pessimo Isai Ha cambiato La gara Cross dentro Il gol Non è arrivato Anche perché Comunque Lecce si è Compattata Alla grande Senza neanche Soffrire così tanto Gran parata Di Falcone Su immobile Falcone Ha già fatto L'ennesima Grande prestazione Abbiamo un po' Il cross In mezzo Niente La Lazio Ci sta provando Fino alla fine Albitro Secondo me Vergognoso Perché ha gestito I cartellini In maniera pessima Falli Non fischiati Tutta la Lazio Sta protestando Contro l'albitro Chiaro che La Lazio Oggi non mi è piaciuta Ha avuto Secondo me Una flessione Molto importante Dopo Dei mesi Secondo me Ottimi Chiaro che Non so se adesso La Lazio Dischia la Champions Però visto che Tutte le altre Dietro Stanno al momento Facendo schifo Fanno pochi punti Credo che La Lazio In Champions Ci va Credo che Ci andrà Senza troppe difficoltà Anche con questa sconfitta Chiaro che Lecce Oggi Se vincesse Farebbe Una gran figura Tre punti Che sanno Non dico di salvezza Però Ti ci Avvicini Tanto Tanto Lecce 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 Espulso Lecce Si sta compattando Molto 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 Bene Stare Schiando Quello Che deve Rischiare Ecco E' entrato Anche Pedro Ma Non è riuscito A incidere Particolarmente Ecco Non capisco Perché Marco Santone Lo schiera Nella partita Ovviamente Intendo Sarri Nella partita In questo Non deve schierarlo Perché Marco Santone Ha fatto panchina Per tutte le partite E poi lo metti così E oggi Marco Santone Ha fatto una partita Da 5 in pagina Se non 4 e mezzo E poi Non lo metti mai Secondo me Un gran difetto Di stare E' sempre schierare I soliti E' sempre schierare I soliti Varia Nelle rotazioni Varia Non dico sempre Perché cambiare sempre Non porta sempre A grandi risultati Però un minimo Cambia Non è che Marco Santone Me lo tieni in panchina Per tutti Sti mesi E poi me lo metti così Titolare Una volta Ogni Non lo so Ogni cent'anni Perché anche Ha giocato con Milan Però E' un giocatore Che secondo me Non sta rendendo bene Perché anche Colpa sua Chiaro Però Se Sarri lo mette Una volta Ogni morte di Papa C'è anche da dire Che Secondo me Questo giocatore Ha delle potenzialità Però qui Secondo me L'allenatore L'ha gestito male L'ha gestito male La Lazio comunque Ci sta provando Ma Questa sconfitta Non me l'aspettavo A meno che La Lazio riesca a pareggiare Ora Ma non lo so Prova Petro Dalla distanza Palo clamoroso Palo clamoroso Di Petro Il Lecce si salva Il Lecce se oggi vincesse Farebbe un qualcosa Di storico Cioè se andiamo Se andiamo noi a guardare La classifica In questo momento Il Lecce sarebbe A più 7 Dalla Diciassettesima Ragazzi Quindi non dico Si salverebbe Al 100% Però Al 60-70% Saresti salvo Visto che poi Mancherebbero Tre giornate Per il Lecce A meno che Lo Spezia Vinca Ma non credo Non credo Quindi Il Lecce Se oggi Ripeto Vincesse Non dico Chiuderebbe la pratica Ma Non ci andrebbe Troppo lontana Ecco Tanto Seicesima Diciassettesima Posizione Per il Lecce Cambia poco Ecco Chiaro che per la Lazio È una sconfitta Che secondo me Fa male Però Neanche così tanto È vero che Solo più 3 Al Mian Fino A Un mese fa Era magari A più 7 Più 8 Però È una squadra Che senz'altro Non avendo le coppe europee Ha più giorni di riposo Il Mian L'Inter Hanno le coppe Quindi La Roma è fuori Così come la Tanta Io credo che Non avrà troppi problemi Anche perché Mancano sempre meno giornate Al termine Della Serie A Però Non mi spiego Il calo Della Lazio Non mi spiego Il calo Della Lazio In questo ultimo mese Dopo La sconfitta Meritata Contro il Toro La Lazio Ci sta provando Ripeto Mancano 3 minuti Ma non credo Succederà nulla di che Carteggi gialli Veramente A go go Nel secondo tempo Guardate qui Guardate qui Tantissimi Poi tante partite di tempo Poi banda Riscato più volte Rosso Quindi È stata una partita Senz'altro Divertente Però secondo me Alla fine Dei conti La Lazio Deva fare meglio Perché Per il tempo Non mi è piaciuto Sì è vero Sta attaccando in tutti i modi Al secondo Dopo il 2 a 1 Subito Però Non sta creando Da parte il palo di Pedro Nel tiro immobile Sta avendo un dominio territoriale Ma A parte quelle Due occasioni Nitide lì Non mi ricordo Molto altro La Lazio Pareggiato La Lazio Pareggiato Occhio Ragazzi Occhio Occhio Perché questa Questo pareggio Non danno per la Lazio Perché la Lazio Non cambia tanto Sove me Un punto Però A Lecce Questo pari Potrebbe far molto male Potrebbe far molto male Me l'aspettavo Me l'aspettavo Forse un pari pure Meritato Però Il gol di Meningo Il Savic Un po' così Non si è capito bene Manca un minuto e mezzo Credo che L'arbitro ha giungito un po' Cross dentro Forse Ha liberato malissimo La difesa del Lecce Ecco Ha liberato Malissimo Romagnoli Del Lecce Però Chiaro che Già il Lecce Con un punto Avrebbe fatto Comunque Un buon risultato Però Se sei 1-2 Fallisci il rigore E poi forse Ti chiudi in maniera Eccessiva Un po' di rimpianti Ce l'hai Però Il Lecce oggi Secondo me Ha fatto Una buona partita Chiaro che In questo caso Il Lecce Manca Ripeto Un minuto e mezzo Andrebbe Per la precisione A più 5 Ecco A più 5 Non sei Salvo Perché mancano ancora 4 giornate Per le altre Però Comunque 5 punti Sulla 17esima O se lo spezia Fa La partita La vita Contro il Milan Ok Però lo spezia Un calendario tosto La cremonese Ha solo 24 punti Quindi Il Lecce Anche con un punto Insomma Potrebbe veramente Succedere L'impossibile In queste ultime giornate Attendiamo Con ansia Sulla 17esima Grazie.